Attività del Consiglio regionale Le commissioni su bilancio e finanziaria Sette giorni in Consiglio La conferenza dei Capigruppo ha definito, dopo la sentenza del TAR che ha annullato l'esito del voto regionale del 2010, il calendario dei lavori e delle attività. In primo piano La conferenza dei Capigruppo, dopo la sentenza del Tribunale amministrativo regionale TAR che ha annullato l'esito delle elezioni regionali del 2010, ha ritenuto che, sulla scorta del parere degli uffici, sia opportuno limitare l'attività alle questioni indifferibili e urgenti. Pertanto, mentre si è sospesa la trattazione della riforma del CSI e della legge elettorale, proseguono i lavori per l'approvazione del bilancio di previsione, considerata la scadenza del 31 gennaio, dell'esercizio provvisorio. La commissione bilancio si è riunita quotidianamente per affrontare sia il nodo del pacchetto finanziario, poiché si avvicina alla scadenza dell'esercizio provvisorio il 31 gennaio, sia per raccogliere le osservazioni del Collegio dei Revisori. Musica 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 Grazie a tutti.